È un cancro che se non lo curi diventa metastasi. Io ho sempre ritenuto da quando sono entrato all'interno delle istituzioni, prima come pubblico ministero, adesso come sindaco, che la vera emergenza nazionale è la questione morale. Corruzione, corrotti e corruttori, infiltrazione delle mafie nella politica e nelle istituzioni. Corruzione e mafia spesso, come sempre si sa, vanno a braccetto. Quindi questo è il tema. Bisogna prevenire soprattutto, perché quando arriva la magistratura già il danno è fatto. Il Paese ha fatto anche dei passi in avanti. Ci sono tante persone all'interno delle istituzioni, e non solo, che sono in prima linea contro la corruzione, ma chi pensa che le mafie e le corruzioni sono state ampiamente sconfitte perché non usano più il tritolo, commettono un grave errore. Perché il livello di penetrazione nell'economia, nella finanza, nella politica e nelle istituzioni è talmente alto che utilizzano anche molto gli strumenti della legalità formale. Quindi si sono fatti Stato. E quindi c'è bisogno di mettere in campo il sostegno più alto possibile a chi è all'interno delle istituzioni lotta. E c'è bisogno di una rivoluzione culturale. Perché il corrotto e il corruttore è uno che fa innanzitutto una scelta di disvalore etico. Quindi ci vuole una grande rivoluzione etica, morale e culturale nel nostro Paese. Grazie. 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 Grazie.